Di ieri l'ingotto comunica la chiusura dello stabilimento di Pomigliano, non sono ferie ovviamente. No, è cassa integrazione, credo che si confermi un dato, il piano Fabric Italia non esiste, è liquefatto e siamo di fronte a due aspetti, gli investimenti annunciati non vengono fatti, nuovi modelli non ce n'è, questo sta determinando il fatto che si perdono quote di mercato purtroppo e che sta aumentando la cassa integrazione, credo che il punto che a questo punto si pone è che il governo deve convocare Fiat e le parti sociali per ridiscutere un piano serio e allo stesso tempo credo che bisogna aprire anche ad altri produttori stranieri la possibilità di venire in Italia perché ci vuole un piano che difenda la capacità di produrre auto nel nostro paese, il rischio ormai aperto è che un intero sistema industriale rischi di essere fortemente ridimensionato. Fiat si giustifica dicendo che il mercato dell'auto è fermo ai livelli del 1979, ma quali sono le colpe secondo lei di Fiat? A me pare che ci sia un rallentamento del mercato dell'auto in Europa, mi pare evidente, ma come è evidente che non tutte le imprese hanno gli stessi risultati, c'è chi aumenta le quote di mercato e chi le perde e ciò che fa la differenza è la quantità di investimenti che sono stati fatti, di nuovi modelli, di strategie generali, quindi io credo che si possa dire che una serie di valutazioni che la Fiat faceva sono state sbagliate, non l'ho presentato io un piano due anni fa che diceva che si andava nel 2014 a 1.400.000 auto e che c'erano 20 miliardi di investimento. La Fiat non sta facendo nessun investimento, sta chiudendo stabilimenti, sta dismettendo attività e sta spostando la sua attenzione verso altri paesi, questo è il punto di fondo e questo non è una cosa che può essere lasciata fare semplicemente a un'azienda, perché la capacità produttiva in Italia, componentistica di auto, è un bene nazionale che deve essere salvaguardato, se non c'è una politica industriale in questo paese e noi siamo di fronte al fatto che nei prossimi mesi se non si interviene, a partire anche dal settore dell'auto e della componentistica, noi siamo di fronte al fatto che questa crisi potrebbe far pagare all'Italia un prezzo doppio, perché interi settori industriali rischiano di saltare.